da la maniera di Mondovì in compagnia con il vice sindaco Luciano D'Agostino e con Donatella Garello preside dell'istituto alberghiero Giolitti Bellisario di Mondovì. Vi chiedo subito un bilancio della manifestazione e dal vostro punto di vista qual è stato appunto il riscontro che ha avuto sulla città di Mondovì? Intanto direi che tutto positivo, il riscontro è stato assolutamente positivo. Noi eravamo così pronti ad ospitare tantissima gente anche perché da 40 anni mancava questo evento nella nostra regione e direi che tutto ha funzionato al meglio, le strutture sportive, quelle recettive ma soprattutto il ringraziamento più grande va fatto all'LPM che davvero ha dato tanto a questa manifestazione e credo anche a tutti i volontari che insieme a loro hanno portato avanti questa iniziativa. Direi che la nostra città ancora una volta si dimostra all'altezza di ospitati di grande e di grandi stesse, questo ci fa sicuramente onore. Ha citato l'LPM Mondovì che ha collaborato con l'istituto alberghiero e in questi termini chiediamo un commento a Donatella Garello. Sì, noi siamo giovani quindi non potevamo mancare alla festa dei giovani questo meraviglioso evento che ha dato tanto a Mondovì, meraviglioso. Noi cerchiamo occasioni per lavorare insieme a chi è presente sul territorio perché crediamo molto nella promozione della cultura giovanile. Grazie all'LPM, felicissimi di esserci stati. Grazie all'LPM, felicissimi di esserci stati. Grazie all'LPM, felicissimi di esserci stati. Grazie all'LPM, felicissimi di esserci stati.